L'ordine del giorno rega il seguito dell'esame delle mozioni Quartapelle-Procopio-Altri numero 142-1, ulteriore nuova formulazione concernente iniziative di competenza a favore di Patek Zaki, con particolare riferimento al conferimento della cittadinanza italiana. Ricordo che nella seduta di martedì 6 luglio 2021 si è svolta la discussione sulle linee generali e è intervenuto il rappresentante del Governo. Il rappresentante del Governo ha facoltà di esprimere il parere sulla mozione all'ordine del giorno. Sottosegretario, dovrebbe esprimere il parere sulla mozione all'ordine del giorno. Grazie Presidente, mi scuso ancora con lei e con l'Aula, il parere è favorevole. Grazie a lei. Passiamo dunque ai voti. Pongo in votazione la mozione Quartapelle-Procopio-Altri numero 1-421, ulteriore nuova formulazione su cui il Governo, ricordo, ha espresso parere favorevole. La votazione è aperta. Attendiamo il deputato del Basso De Caro, che ci ha raggiunto in questo momento, anche Provenza. Prego di affrettarvi a guadagnare la vostra postazione perché chiudiamo. La votazione è chiusa. La Camera Grazie. 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 Grazie.